DICONO CHE L'HA ABBANDONATO QUANDE ERA BAMBINO Io non ho abbandonato mio figlio Anthony! Oggi farebbe 50 anni Chi è? Sua moglie dice che ha una lieve depressione Mi hanno licenziato, sono senza lavoro Sì, ma non è colpa sua Per questo sono depresso Lui è Martin Sixsmith, ex corrispondente della BBC da Mosca Poi è stato consigliere del governo, ma non è andata bene Dico sempre che se spali merda ogni giorno, prima o poi ti sporchi le scarpe Oppure ci finisci dentro fino al collo Una donna che conosco ha avuto un figlio da adolescente E l'ha tenuto nascosto per 50 anni Quello di cui mi sta parlando fa parte del genere storie di vita vissuta Ma io non seguo queste cose Perché no? E se mi occupassi di una storia di vita vissuta? Buongiorno, lei deve essere Filomena Sei vittima di una crudeltà Non mi piace quella parola No, no, crudeltà va bene Per la storia, voglio dire Volevo chiederle se è possibile non usare il mio vero nome quando scriverà l'articolo Mi chiami Anna Anna Bolena Anna Bolena È un bel nome, era il nome di qualcuno Dovremmo usare il suo vero nome, Filomena Sarei più a mio agio se potessi parlare con Filomena in privato Lei è un giornalista? Lo ero una volta Martin è un vero cattolico Lo ero una volta Ci sono strade che possiamo seguire in America Che trattamento da regina Mi sento un papa Cocktail di frutta o champagne? Oh no, grazie È gratis Oh, allora sì Sulla Ryanair si paga tutto Guardi che vista Voglio solo sapere se sta bene E se fosse morto in Vietnam? O se fosse obeso? Perché mai dovrebbe essere obeso? Ha visto quanto sono grandi qui le porzioni? L'ho conosciuto? Dove? Alla Casa Bianca Si ricorda quello che le ha detto? Salve 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 O forse era ciao Oh, Martin Le voglio solo parlare di mio figlio Me l'hanno portato via Non ho mai smesso di cercarlo No ho mai smesso di speranza di farla di mio figlio Non ho mai smesso di speranza di farla di mio figlio No ho mai smesso di speranza di farla di mio figlio